Faire Femini Film Faire Femini Film così non vi perderete la prossima diretta, le prossime dirette, altrimenti se non siete su Twitch e non avete voglia di iscriversi potete comunque seguire le nostre dirette live però seguite i canali social perché avvertiremo sui canali social quando appunto andremo in diretta. Quindi questo avvertimento ci teniamo a farlo prima di cominciare con la recensione che come sempre sta rivisa in una parte senza spoiler e una parte con gli spoiler. Allora la scorsa puntata è una puntata veramente molto bella, una puntata che si concludeva con un grandissimo finale, il finale che diciamo doveva catapultare il Mandalorian e il Baby Yoda da una Jedi. Ora questa puntata qua è una puntata un pochettino più tranquilla rispetto all'altra, è una puntata che si prende un attimo di respiro che tira un po' il fiato però non è un filler, non è un filler, è una puntata diciamo di interlocutoria. Ci sono, e va bene insomma, nelle serie T-Wall ci sono bisogno di iscriversi, ci sono puntate che succedono un sacco di cose, poi ci sono le puntate un po' più di respiro e poi ci sono i filler che sono un'altra cosa. I filler sono robe noiosi in cui succede qualcosa di cui non te ne frega assolutamente niente. Questa qui è una puntata che ti permette di riordinare un po' le idee, succedono cose, la trama va avanti ma va avanti ad un ritmo più blando, più tranquillo. È una puntata che ci permette anche di tornare in luoghi già visti, di fare un po' un viaggio anche in quella che si sta formando, in quella che sta nascendo nella mitologia un po' di questa saga The Mandalorian che si sta appunto, ripeto, lentamente formando con questa seconda stagione, si sta consolidando meglio con questa seconda stagione. E quindi è una puntata buona, una puntata, ripeto, interlocutoria ma comunque piena di azione. Succedono cose, ci sono appunto sparatori, ci sono inseguimenti, ci sono appunto combattimenti, questo sicuramente è una cosa molto positiva e si chiariscono un po' le idee, si chiariscono un po' le idee, si comincia a preparare un po' per quello che succederà nelle prossime puntate che si prospettino sempre di più essere delle puntate molto forti, molto belle, molto interessanti e al tempo stesso ci si chiariscono un po' le idee su Repubblica, su Impero, su un po' la situazione nella Galassia, resta comunque del mistero, resta comunque, diciamo, ci sono, ne parleremo poi ovviamente nella parte spoilerosa, adesso non mi dilungo troppo, però ci sono alcune cose, alcuni elementi che restano profondamente misteriosi. L'Impero sta tramando qualcosa, l'Impero, il nascente primo ordine potremmo dire, ex Impero, sta tramando qualcosa, riguardando qualcosa, però cosa non lo sappiamo e non vi dico appunto bene cosa adesso ovviamente non è, se siamo nella parte non spoilerosa, il momento per fare delle considerazioni a riguardo. Però puntata molto buona, puntata molto interessante, molto piacevole e questa seconda stagione di Mandala si sta rivelando veramente, veramente buona. La prima stagione era discreta, non eccezionale, non buona, discreta. Questa stagione qua finora è veramente buona, tendente anche, tendente anche in alcune puntate all'ottimo e quindi, diciamo, se la serie prosegue su questo livello, se va anche increscendo, ci sono, diciamo, buone ragioni per sperare, di vedere delle belle cose, delle belle cose ora del finale. Per la parte non spoilerosa è tutto, mettetevi piace a questo video, iscrivetevi al canale e seguitete da FareFamilyFilm anche sui social, Facebook, Instagram e anche Twitch da ieri sera. Per la parte non spoilerosa è tutto, adesso due secondi prima di iniziare invece a fare degli spoiler. Allora, la cosa sicuramente più interessante è rivedere i personaggi, i personaggi che c'erano stati nella prima zona, torniamo su Nevarro, questo è Peneta, rivediamo appunto Cara, rivediamo lì l'ex datore di lavoro del Mandalorian, quando era ancora un cazzatore d'Italia, ed è bello rivedere questi personaggi, ripeto, si sta creando un po', si sta consolidando un po' la mitologia di The Mandalorian, ci sono quei personaggi che vedi, che ti fa piacere rivedere, perché comunque sono personaggi che hanno avuto il loro perché, che hanno avuto la loro storia, che hanno contribuito in modo importante nella prima stagione, quindi questa sicuramente è una cosa che ho apprezzato. La trama, ho detto una parte non spoilerosa, non va avanti tantissimo, nel senso che non vediamo quello che vorremmo vedere, noi finiamo la terza stagione, la terza punta da che non vediamo l'ora di vedere Asso Katana, non vediamo l'ora di vedere i Jedi, me l'aspettavo, l'avevo detto anche in un'altra recensione, che non sarebbe successo, non avremmo visto subito molto probabilmente i Jedi, perché, perché le cose, insomma, bisogna anche un po' procrastinare a un bel momento, bisogna anche, diciamo, lasciare il tempo al pubblico di, bisogna creare l'attesa, no? L'attesa del piacere, se stesse il piacere, si dice, effettivamente è un po' così, vedere subito, una volta dopo l'altra, quello che ti aspetti, non è, non è il massimo. Ora, non bisogna tirare troppo la corda, se adesso anche la prossima puntata non si arriva finalmente a vedere i Jedi, non si raggiunge Asso Katano, comincia a tirare un po' la corda, però una puntata in cui non ti soddisfano, in cui ti attizzano un po' il desiderio, va bene, ci può stare, è una cosa anche intelligente. Puntata però che, nonostante non faccia vedere i Jedi, che è la cosa che noi vorremmo vedere, ti dà comunque delle altre cose, la torniamo a Navarro, vediamo i nostri vecchi amici, cosa, diciamo, cosa buona, cosa positiva, però porta avanti, porta avanti, questa è una cosa interessante, porta avanti il rapporto tra Impero barra Primo Ordine e Repubblica, perché? Perché Mandala arriva lì e, diciamo, resta investiato ovviamente in questa avventura di distruggere la base dell'Impero che si trova sul pianeta Navarro, base che dovrebbe essere abbandonata, ma scopriamo non essere così. Quindi è una base interessante perché vediamo che fanno degli esperimenti. Stanno facendo gli esperimenti del trasfuso di sangue, si parla di un M-Count, che la Butolip penso che abbia a che fare con, forse con, i Mandalorian, questo M-Count. Si parla di un rigetto e si parla di un bambino, child, che da qui proviene questo sangue che viene poi trasfuso alle altre persone. Che cos'è? Cosa stanno facendo? Difficile dirlo, difficile dirlo, siamo nel campo delle supposizioni più avventate. La cosa, diciamo, che mi è venuta in mente subito è che stiamo cercando, in qualche modo, di fabbricare, produrre uno Jedi e che il bambino possa essere il Baby Yoda. Noi, da quando lo vediamo nella prima stagione, non sappiamo bene da dove venga Baby Yoda, cosa abbia fatto. Ricordiamo che ha 50 anni Baby Yoda, nonostante sembri proprio un bambino. Cosa ha fatto in quei 50 anni? Dove è stato? L'impero per un certo periodo di tempo è riuscito a metterci le mani sopra. Ricordiamo che il Mandalorian, quando lo va a prendere, quando lo cattura, lo va a prendere per conto dell'impero. Può darsi che fosse dell'impero, poi era riuscito a scappare in qualche modo. Non lo sappiamo, non lo sappiamo, però può darsi che lui sia il child, anche perché, ovviamente, questo M-Count ha a che fare con il Mandalorian. Può darsi che il... Mi sembra abbastanza logico che sia il child, sia il Baby Yoda, perché sicuramente lui è pieno di Mandalorian, essendo sensibile alla forza. Lì stiamo cercando di usare il suo sangue per replicarlo, per creare altre persone sensibili alla forza. Chi lo sa, chi lo sa. Alla fine, poi, della puntata, vediamo Moff Gideon, che è in questo, diciamo, incrociatore stellare, con tutte delle armature, delle tute, che anche lì non si capisce bene che cosa siano, cosa servono. Insomma, si capisce, si vede che stanno preparando qualcosa, si vede che l'ex impero futuro nuovo ordine sta, primo ordine, sta cercando di, diciamo, si sta organizzando, e la cosa si rivela comunque interessante. Ripeto, la cosa è misteriosa, la mia supposizione potrebbe essere una minchiata assoluta. È possibilissimo? Non lo so. Però, insomma, staremo a vedere. Quello che conta è che c'è comunque questo mistero, c'è questo mistero, vorremmo vedere come vanno avanti le cose, e per il momento noi non lo sappiamo. L'altra parte, appunto, quindi, l'impero, l'altra parte, la repubblica. Cominciamo a capire un po' meglio come ha fatto il primo ordine a formarsi. Vediamo la repubblica, però la repubblica che noi vediamo in questa puntata qua è una repubblica molto debole, il cui controllo sull'orlo esterno, sull'outer rim, è veramente molto debole. Dalla fine della puntata vediamo due X-Wing, da cui ci sono due piloti della repubblica, e c'è un dialogo interessante tra uno di questi piloti e Cara, che scopriamo provenire da Alvera, tra l'altro, in cui dice, nel centro, nel nucleo della repubblica, non si rendono conto, ma le cose qua nel l'orlo esterno sono complicate, dovremmo avere un controllo maggiore. qui, diciamo, si capisce, è una giustificazione a posteriori di quell'accesso della nuovissima metodologia Star Wars, il livello della forza, eccetera. Vediamo che sì, la repubblica è stata restaurata dopo la caduta dell'impero, però è una repubblica molto debole, nel lorlo esterno, l'impero ha ancora mano libera con le sue vecchie basi, con i suoi lealisti, per agire in modo quasi incontrastato, la repubblica non riesce effettivamente ad avere un controllo forte della situazione. Come andano avanti le cose? Beh, la faccenda stile è interessante, nel canale vediamo che è stato messo un sistema, un radio faro sulla navicella del Mandalorian, per trezzarlo, per seguirlo, quindi Moff Gideon, l'impero, sa e sa farà sempre dove si trova, a meno che fino a quando non si rendera conto il Mandalorian di questo radio faro, sarà, il Mandalorian riuscirà ad arrivare nella prossima puntata a Zocatano e si trascinerà dietro l'impero, oppure lo intercetteranno prima, la prossima puntata vedremo appunto il Mandalorian contro Moff Gideon o chi sarà per lui, quale altro, diciamo, membro dell'impero ci sarà, non lo so, mi piacerebbe tanto vedere nella prossima puntata a Zocatano, piacerebbe tanto ovviamente vedere un po' di Jedi, un po' di forza, però insomma, gli do fiducia, gli do fiducia, finora non mi hanno deluso in questa seconda stagione, non ho motivo di credere che cominceranno a farlo dalla prossima puntata, quindi, diciamo, resto fiducioso. Mi sento iniziato a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ripeto, 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 gli avvertimenti sui social, la Fairy Family Film è molto attiva, sia su Facebook, sia su Instagram, oggi è il Fairy Family Friday, andate e partecipate, potete vincere una recensione personalizzata, e anche su Twitch, seguite su Twitch, canale della Fairy Family Film, followateci se siete iscritti, se siete già iscritti su Twitch, oppure se volete iscriverci, poi followateci, se non volete iscriverci, potete comunque seguirci, però seguite sui social, Facebook, Instagram, per sapere quando saranno le, quando saranno le dirette, o se no, lo vedete anche su Twitch, in realtà abbiamo sempre un countdown, sulla homepage della nostra pagina, che vi dirà quando sarà la prossima, la prossima diretta, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento, con la Fairy Family Film, ciao a tutti.